Il pareggio di mercoledì sul campo del Palermo ha stoppato le ambizioni natalizie del Bari. La capolista del Gironi C di Serie C rimane ovviamente la Ternana, ma gli Umbri mantengono sei punti di vantaggio sui biancorossi dopo aver riposato e dopo averli visti pareggiare in Sicilia. Gaetano Autiri non lo nasconde, sono due punti persi. Il gol subito a ridosso del novantesimo cambia l'umore del Bari e lascia invariata la classifica, l'esatto opposto di come il tecnico avrebbe immaginato l'ultimo turno del 2020. Ma complessivamente abbiamo giocato un'ottima partita, noi abbiamo fatto cose buone e cose non buone, cose non buone certo quando hai 4-5 riesci a creare 4-5 situazioni importanti per chiudere la partita o per mettere a sicuro il risultato vanno capitalizzate queste situazioni perché lì abbiamo sbagliato le scelte, in alcuni momenti siamo stati troppo egoisti, però le avevamo create quelle situazioni, di contro non avevamo mai concesso nulla, soltanto confusione sono sempre allineati bene, sempre corti, tempestivi e poi sempre pronti a palleggiare e a uscire. Ha detto bene, questo è un... perché per il calcio è fatto così può sempre capitare come purtroppo è successo di subire il gol del pareggio su un gol incredibile perché francamente è incredibile il gol che abbiamo preso. Vince e vola al terzo posto il Foggia che ne fa 4 sul campo della Paganese e si conferma corazzata da trasferta. Il tecnico rossonero Marco Marchionni però non dimentica da dove viene una delle squadre più in forma del momento. Il merito di questi risultati è anche delle 4 sconfitte consecutive prima del derby contro il Bari, spiega l'allenatore. Senza quelle difficoltà non saremmo qui oggi a goderci un Natale al terzo posto. Ci godiamo il momento ma sappiamo di dover lavorare ancora tantissimo. Torna al successo dopo 11 partite senza vittoria il Biceglie che con l'1-0 sul Teramo si tira fuori dai meandri della zona play-out. Vittoria preziosa per i nerazzurro stellati, rappresentata dalle parole del vice Carlo Ricchetti. L'allenatore in seconda, a partire dal primo match del 2021, lascerà il posto di nuovo a Giovanni Bucaro che si è visto ridurre la squalifica da 7 a 5 giornate. Un risultato ottimo, un risultato dove i ragazzi hanno dato tutto e se questa partita, questa vittoria, se la meritano è tutta loro. È tutta loro perché dopo 20 giorni di sofferenze non poteva essere altrimenti. Nuova sconfitta per il Monopoli, stavolta in casa contro il Potenza, mentre la Virtus Francavilla allunga 7 partite e la striscia senza sconfitte. Grazie al pareggio contro la vita erbese in trasferta. Biancoverdi e Biancocelesti rimangono fuori da zona promozione e griglia retrocessione.